E' stato denunciato dopo l'incidente un bene di due anni di Sulmona che era alla guida lo scorso sabato della Toyota Yaris che uscì da fuoristrada sulla circonvalazione orientale nei pressi riviaturati. Le indagini effettuate dai carabinieri del nucleare automobile hanno accertato che il giovane si era messo al volante in stato di alterazione poiché guidava sotto effetto di sostanze stupefacenti e stato di ebrezza dal momento che aveva un tasso arcolemico di 1,5 grammi litri, ovvero tre volte oltre il limite tolerato dalla legge. Il conducente è stato quindi deferito come atto dovuto. Nell'incidente sono rimasti feriti alcuni giovani, la diagnosi soft che era stata effettuata dal pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona è diventata più consistente nelle ultime ore. Una giovane di 20 anni è infatti ricoverata nel reparto di chirurgia per un trauma addominale dovuto proprio all'incidente. Non sono emerse altre complicanze per cui dovrebbe essere dimessa oggi stesso. diversa la situazione per un altro ventenne trasferito nella neurochirurgia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila per la frattura di una vertebra. Non roba da poco insomma, anche se nessuno dei feriti fortunatamente risulta in pericolo di vita. Sul fronte della sicurezza stradale la prefettura ha intensificato i controlli. nello scorso fine settimana, nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 luglio, sono stati controllati su tutta la provincia 628 veicoli e 775 persone, con 49 infrazioni rilevate e 5 documenti ritirati, prevenzione e repressione per alzare il livello di sicurezza.